Allora, terza classificata, categoria di 101 Under 18, Camilla Di Grosso. Seconda classificata, Aurora Sottoli. Grazie. Mentre prendete i vostri premi, vi ricordo che siete tutti qualificati per la prossima Coppa del Mondo. Vi ho preso il teatro più grande d'Europa, quindi io vi chiedo di farvi fare bella figura come squadra italiana che farete parte dell'Italia. Grazie. Prima classificata, Rebecca Carrillo. Ragazzi, ripeto a voi, il podio internazionale è formato tra persone che sono state particolarmente brave e altro giustamente. Ma voi siete lì, mentre le vostre colleghe sono a casa guardarmi stimili e siete al campionato nazionale dell'Italia. Grazie. 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 Grazie.